Grazie. 门上 drop 电脑没开到吧 把这个 这个 这个 来拿了 好 然后调节 等会 等会 看电子 打点玩意 不管 你看 我跟你说了 这个 你是不能让键盘器做工吗 对 这个鼠标不行 鼠标不行 好 是不是 我使是 我不要乱了 我们不知道 再把它拆开 应该怎么不出来 我不要再来 来吧 要不是 把电子放开 很难 我们在打开 我们在这边 至少 十一 1.30, 1.10, 100 1.25, 1.36, l'altro non era nemmeno 1.30, 1.36 vipsy ovvipsy 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 erovvipsy ovvipsy mania chelera me a me non 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 e una una è quello che si non si non non ma Non ho fatto un po' di più. Non mi ha fatto un po' di più. Non mi ha fatto un po' di più. Noi sono andati. Non mi ha fatto un po' di più.